spedipods il podcast di spediporto secondo numero di spedipods il podcast di spediporto e con il direttore generale giampaolo botta raccontiamo anche quella che è stata l'assemblea pubblica di spediporto è un appuntamento annuale è un appuntamento molto partecipato circa 300 persone presenti al palazzo della borsa con un filo rosso lo abbiamo definito un filo rosso ma anche in realtà un filo verde perché il green la sostenibilità l'inclusività sono tra i temi della green logistic valley che è stata declinata in questa occasione in un modo particolare cioè si è guardato al futuro sì l'obiettivo che quest'anno spediporto ha cercato di raggiungere con la sua assemblea è quello di coinvolgere amministrazioni operatori e città in un progetto che noi abbiamo definito di green blue deal legato proprio al tema della sostenibilità dell'inclusione e della responsabilità che il settore della logistica deve dimostrare di aver raggiunto la nostra volontà sostanzialmente è stata quella di dimostrare che è possibile cambiare paradigma è possibile vivere la logistica non come un soggetto scomodo e neanche come un soggetto asservito all'industria pensi come uno strumento qualificato per promuovere in Italia e nel mondo le eccellenze del nostro territorio e per quanto riguarda questo aspetto cioè il territorio il nostro punto di partenza non poteva che essere la Valpolcevera che è da diversi anni al centro delle nostre attenzioni soprattutto del nostro interesse che riteniamo essere la sede ideale per ospitare la prima zona logistica semplificata con reale capacità di sviluppo dei traffici con reale capacità di essere attrattiva rispetto a investitori che vogliono portare qui in Liguria la manifattura e fare del porto di Genova non soltanto un porto di imbarco e sbarco di contenitore ma anche un porto dove le eccellenze italiane possono trovare gli spazi necessari a operare e a produrre. Assemblea pubblica a cui è partecipato tra gli altri anche il professor Lorenzo Cuocolo presidente di FILSE perché insomma si è individuata quella che potrebbe essere una struttura per dare gambe al progetto della Green Logistic Valley. Sì con il professor Cuocolo abbiamo ragionato e stiamo lavorando su un'ipotesi di fondazione in partecipazione questa è la forma Iuris che noi riteniamo meglio di altre possa accogliere l'ipotesi di una partecipazione di soggetti pubblici e di soggetti privati in un grande progetto di rilancio del territorio. Lavoreremo in questi mesi con il professor Cuocolo ma anche con le amministrazioni e con tanti player privati al fine di realizzare questo soggetto e cominciare a dare gambe sostanza e struttura ad una progettualità che siamo sicuri possa arrivare a trasformare non soltanto la Valpolcevera ma la nostra città, la nostra regione riassegnandogli un ruolo centrale di leadership nei traffici internazionali. Green Logistic Valley si ricongiunge anche al tema delle zone logistiche semplificate al zona dello sviluppo comunque di Genova, dello sviluppo futuro e all'assemblea pubblica di Spediporto c'erano tutti, c'era il presidente della regione Toti, il sindaco Bucci, è arrivato anche il viceministro Edoardo Rixi, c'era il commissario dell'autorità di sistema portuale Paolo Piacenza e anche il neodirettore generale dell'aeroporto D'Amico. Si è tracciato anche un po' un quadro di quello che può essere appunto questo New Deal di Genova perché ci sono tanti investimenti sulle infrastrutture ma tutto quello che dice Spediporto per gettare le basi della Green Logistic Valley è essenziale per costruire la Genova del futuro. Sì perché vero progresso c'è solo quando questo offre opportunità veramente a tutti, gli investimenti che il governo e l'autorità di sistema portuale insieme a comune e regione hanno deciso di sostenere sul nostro territorio sono sicuramente importanti, forse più importanti della storia degli ultimi cento anni della nostra città, ma devono essere messi nella condizione di portare ricchezza a tutto il territorio includendo anche quelle fasce sociali, questo è un tema che noi abbiamo più volte sottolineato nella nostra relazione, oggi vivono un momento di grandi difficoltà perché sono fasce sociali deboli legate a lavoratori con ridotte competenze, a persone con ridotta capacità nella mobilità, quindi a persone anche che hanno degli handicap di salute che devono essere invece inclusi in un progetto di rilancio economico e la Green Logistic Valley si pone anche questo obiettivo, quella dell'inclusività e quando si include non si esclude, si fa in modo che gli effetti positivi degli investimenti veramente siano in grado di raggiungere chiunque. Insomma questa è stata un'assemblea sicuramente molto importante, un passo alla volta, adesso ci saranno altri 12 mesi prima della prossima assemblea, ma Spediporto non si ferma mai perché ha moltissime carte da giocare per realizzare questo progetto, ma realizzare tutte le progettualità e anche condurre le battaglie di cui abbiamo parlato anche sui mezzi di comunicazione, ma non soltanto in questi mesi, uno tra tutti che tra l'altro si lega anche, è una parola che è ritornata spesso anche durante l'assemblea che è quello della burocrazia che a volte è un limite importante. La burocrazia è un limite, è una zavorra che ormai limita veramente la capacità competitiva non solo di Genova ma di tutto il paese ed è la grande vera riforma, è la riforma delle riforme, la riforma che ogni governo ha paura di affrontare perché qualsiasi governo che decida veramente di mettere mano alla burocrazia sa di scontrarsi con gli apparati burocratici e quindi con chi di fatto gestisce buona parte dell'impianto amministrativo di questo paese, i grandi esperti burocrati che hanno sapientemente costruito negli ultimi 50 anni posizioni e rendite di potere che oggi difficilmente si mettono in gioco, questa è la grande e dolorosa verità di questo paese. Noi non vogliamo abolire in assoluto la burocrazia, vogliamo fare in modo che la buona burocrazia, quella cioè che sostiene le imprese, il territorio e l'economia, possa avere la meglio rispetto ad una cattiva burocrazia che pone soltanto vetti, limitazioni e non sa dare soluzioni al paese per uscire da alcuni momenti di crisi in cui ciclicamente ci troviamo coinvolti. Di carne al fuoco ce n'è stata, ce ne sarà anche per le prossime settimane, quindi continuate a seguire Spedipods, questo era il secondo numero, presto il terzo con gli altri approfondimenti con il direttore generale Giappalo Botta. Grazie. Spedipods, il podcast di Spediporto.